buonasera buonasera a tutti eccoci qui al nostro appuntamento consueto del martedì sera ho ancora un pochino la connessione non non stabile quindi fatemi sapere con la chat se non non sentite speriamo che tenga purtroppo eccoci qua stasera affrontiamo un argomento che riguarda appunto tutti i problemi le problematiche riguardanti la bocca quindi afte gengivite parodontite tutto ciò che riguarda appunto le affezioni della bocca come sapete io carlo siamo due naturopati quindi ci occupiamo della prevenzione primaria a 360 gradi quindi più che curare le malattie quello spetta poi ai medici ci preoccupiamo prima di mantenere la salute quindi di fare in modo che le persone stiano bene attraverso uno stile di vita sano una vita regolare della una sana alimentazione un esercizio fisico moderato vita in mezzo alla natura un livello di stress che non troppo elevato e purtroppo questo è una delle cose con cui è più difficile lavorare perché la maggior parte delle persone conduce una vita abbastanza stressante e quindi poi molte problematiche derivano anche da preoccupazioni pensieri acidificanti non si dorme bene ci si preoccupa e quindi di conseguenza non essendo completamente sereni almeno molti di noi non essendolo soprattutto poi in questo periodo in cui oltre ai problemi personali familiari si aggiunge anche una situazione esterna che non è delle migliori ma noi non demordiamo andiamo comunque avanti scegliendo sempre l'essere umano il suo benessere ecco l'importante concentrarsi ancora di più in questo periodo sulla solidarietà tra noi sul cercare di essere di stare bene anche perché se stiamo bene riusciamo meglio affrontare anche l'esterno che è molto sfidante e cerchiamo di dare attraverso questi martedì delle informazioni base che possono essere utili per tutti soprattutto quando chiaramente non si tratta di problematiche gravi ma che con degli accorgimenti naturali possono rientrare facilmente quindi ecco questa è proprio prevenzione primaria cioè agire prima che il problema diventi più gravi o si manifesti in modo pesante. Come dicevamo stasera ci occupiamo di tutte le problematiche e le affezioni della bocca e a fare questo parte Carlo stasera. Carlo vai. Ok eccomi qua mi vedete? Aspetta sistemiamo un po' la la telecamera ok allora partiamo dalla una delle problematiche maggiori della bocca che è la gengivite la gengivite è un'infiammazione che è a carico delle gengive ed è molto molto diffusa tra la gente e poi capiremo il perché. In genere viene molto spesso trascurato e i sintomi veri e propri si possono vedere diciamo un po' di tempo dopo solo che a quel punto lì il problema è già andato avanti. La causa principale è un'infezione batterica che può sfociare se non viene trattata nei termini corretti e può sfociare comunque in un'infezione più grave che la parodontite e lì comincia a essere già molto più complicato riuscire a recuperare la situazione e si può andare a perdere a perdere i denti poi fondamentalmente. in genere ci si accorge quando che le gengive sono infiammate quando spazzolando i denti con lo con lo spazzolino si notano delle tracce di sangue e sia nel lavandino che anche un po' nelle setole dello spazzolino lo stesso delle volte c'è anche un po' di dolore però spesso neanche un po' marginale ci può essere anche il cambio cambio di colore anche un po' delle gengive che diventano un pochino un pochino più arrossate e spesso comunque questi sintomi vengono abbastanza trascurati come se fosse una cosa abbastanza normale ma non è così la questione è che andando avanti il solto gengivale si allarga si ritrae sempre di più e quindi resta uno spazio tra la gengiva e il dente e cosa succede in questo quello spazio lì è che si accumula facilmente placca e tartaro e quindi lì il cibo può restare intrappolato causando questi che in quel caso lì delle infezioni gengivali o le gengiviti comunque che è un'infiammazione e quindi la cosa importante è rimuovere bene tutto quel cibo che rimane in quella in quella sezione lì e quindi quindi dicevamo la principale origine è quella batterica la questione fondamentale è seguire delle procedure ben precise che sono quelle di pulire i denti regolarmente con uno spazzolino che non sia troppo 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 duro perché sennò andrebbe a danneggiare diciamo quella quella zona e spazzolare in maniera in maniera normale e utilizzare il filo interdentale queste sono le prime norme da seguire quello che può danneggiare diciamo e può agevolare la gengivite e il fumo per esempio anche chi ha affetto di diabete può sicuramente rendere sempre più evidente diciamo può dare più forza a un'infiammazione di quel tipo lo stress per esempio anche quando una donna che è in gravidanza sicuramente deve stare un attimino deve avere più attenzione a quegli aspetti lì perché è una situazione un po' particolare ma anche quando si assume determinati farmaci particolarmente gli antipilettici antidepressivi o anche la pillola anticoncezionale e ma anche l'utilizzo di cibi irritanti e oltretutto quello che è un po' particolare ma anche l'utilizzo di cibi irritanti e oltretutto quello che è può aggravare un po' quella situazione sono gli apparecchi dentali quindi le dentiere e le protesi se non sono posizionate bene non sono sistemate un po' come nella maniera più opportuna sicuramente quindi allora la cosa importante sarebbe lavare delicatamente i denti tre volte al giorno e quindi dopo ogni pasto e con spazzolini con setole morbide e sciacquare una cosa ecco questo che può essere una cosa molto interessante sciacquare comunque i denti dopo aver fatto tutta la procedura lavaggio del lavaggio dei denti sciacquare i denti utilizzare acqua tiepide e sale perché è antinfiammatorio e anche un antisettico quindi tiene sempre più diciamo igienizzato tutto il cavo orale e questo è uno degli accorgimenti quindi quindi gli aspetti importanti sono quelli di avere un'igiene igiene orale elevato quindi lavando e sciacquando bene i denti e utilizzare il filo interdentale attenzione all'utilizzo di sigaretta e tabacco come dicevamo chi ha il diabete comunque è più soggetto comunque a questo tipo di patologia chi usa i farmaci chiaramente come sappiamo benissimo come i farmaci danno un vantaggio da una parte uno svantaggio dall'altro e le otturazioni dentali per esempio non sono integre e possono essere corrotte usurate anche lì si può creare un terreno agevole per quello che sono per quello che sono problematiche legate alla gengivite e quindi poi importante agire comunque in maniera energica e corretta per evitare che si trasformi in parodontite e quindi poi rischiare anche la perdita la perdita dei denti uno degli aspetti importanti è anche legato all'alimentazione perché un'alimentazione povera di frutta e verdura e ricca di zuccheri e raffinati crea veramente un disastro non solo durante l'immissione della bocca sicuramente ma anche poi e questo è un discorso che riguarda che facciamo a poi naturopati anche perché determina un'acidosi a livello generale e un terreno acido sicuramente e porta a porta facilmente all'infiammazione e sull'infiammazione sul terreno infiammato logicamente anche molto più frequente molto più frequente e prendersi delle malattie perché è il terreno ideale per perché attecchiscono anche virus batteri o qualunque cosa ma quindi il discorso che adesso questo problematica è sempre più diffusa è legata all'utilizzo di zuccheri raffinati in maniera eccessiva pensate comunque che all'inizio del 1900 e questo diciamo anche è legato al discorso del diabete chiaramente all'inizio del 1900 il consumo di zucchero in Italia all'inizio del 1900 per persona era un chilogrammo oggi se ne consuma 28 chili a testa quindi 28 volte quello che era il consumo di inizio 1900 quindi in un secolo poco più di un secolo da un chilo è passato a 28 chili negli Stati Uniti sono a 40 chilogrammi poi si può stupire se c'è il diabete c'è l'obesità è tutto parallelo quindi zuccheri raffinati che vuol dire anche cereali raffinati per esempio perché poi vengono trasformati in zuccheri quindi questo è il problema di fondo è proprio quello e comunque nel mondo in questi ultimi 40 anni i diabetici sono quadruplicati quindi l'alimentazione è fondamentale per tutta una serie di cose quindi anche per il discorso della bocca comunque che è il primo primo posto diciamo il primo spazio dove transita il cibo e quindi noi continuiamo a battere sul discorso anche di alimentazione c'è anche lo stress sicuramente come diceva Melissa che è una componente importante oggi data la situazione particolarmente ma l'alimentazione assume un aspetto di fondamentale importanza e questo è quanto quindi riepilogando per mantenere una buona situazione sul cavo orale quindi sui denti fondamentale utilizzare regolarmente lo spazzolino alla fine dei vari pasti uno spazzolino morbido quindi non fare una spazzolatura troppo energica utilizzare il filo interdentale sciacquare la bocca comunque con dell'acqua e sale e sale imalaiano sarebbe meglio perché va a igienizzare e tiene il cavo orale una situazione di igienizzazione comunque la cosa importante è particolarmente in questo periodo nell'alimentazione mettere molta frutta e verdura molta roba cruda e cercare di evitare al massimo quello che sono gli zuccheri e i carboidrati raffinati queste qui sono delle regole importanti da seguire poi ci sono sicuramente cose più specifiche più dettagliate ma queste grandi linee sono delle cose dove tutti dovrebbero comunque attenersi per cercare di stare in buona salute eccoci qua allora gengive infiammate vediamo un attimo i rimedi naturali che si possono utilizzare sono diversi a parte quello che ha già detto Carlo dell'acqua e sale per fare gli sciacqui perché sapete che il sale è una funzione disinfettante e aiuta a ridurre notevolmente i batteri tuttavia non bisogna farne un uso eccessivo in quanto può creare una situazione alla lunga può comportare l'erosione dello smalto dei denti questo discorso qui vale anche per l'utilizzo del bicarbonato di sodio il quale è un ottimo alcalinizzante da utilizzare per la bocca oltre che sapete anche sbiancante per i denti e la stessa cosa vale anche per le gengive disinfetta però non bisogna esagerare bisognerebbe fare non più di un paio di volte alla settimana per quel che riguarda l'utilizzo del bicarbonato ci sono poi altre tecniche che aiutano a ridurre l'infiammazione delle gengive e sono per esempio l'oil cooling che qualcuno di voi conoscerà che è una tecnica ayurvedica molto antica quindi millenaria l'oil cooling si deve fare necessariamente con olio organico al 100% gli oli più indicati sono naturalmente contribuisce a mantenere denti sani anche gengive sane gli oli più indicati sono l'olio di sesamo, l'olio di girasole e l'olio di cocco l'olio di cocco tra l'altro contiene l'acido laurico che ha proprietà antinfiammatorie e antimicrobiche molto molto elevate come si fa l'olio di cocco? non si fa altro che tenere in bocca l'olio scelto quindi abbiamo detto uno di questi tre per 20 minuti facendolo praticamente muovere all'interno della bocca che naturalmente poi si mischia la saliva e questo va fatto per 20 minuti al termine dei 20 minuti bisogna sputare il tutto nel water non nel lavandino nel water perché chiaramente poi diventa tossico ci sono tutti i batteri all'interno questo fa sì che le vostre gengive ricrescano addirittura se c'è una recessione delle gengive utilizzando l'oil pooling e facendolo tutte le mattine nel tempo noterete che laddove magari si stavano scoprendo i polletti dei denti laddove c'era la gengive ritirata c'è una ricrescita del tessuto gengivale e questo normalmente non viene detto o non viene detto dai dentisti perché si agisce subito attraverso operazioni che vanno a coprire il colletto piuttosto che dentifrici abbastanza aggressivi che magari al momento sembra ci sia un miglioramento ma poi alla lunga peggiorano la situazione un altro rimedio naturale è l'infuso di foglie di salvia non so se sapete ma che vi ricordate le nostre nonne almeno si usava prendere una fogliolina di salvia e sfregarsela sui denti perché si diceva che aveva un effetto sbiancante dello smalto ecco oltre a questo l'infuso di foglie di salvia fatto chiaramente macerando facendo macerare e bollire una trentina di foglie di salvia nell'acqua e poi facendo degli sciacqui porta proprio a disinfettare il cavorale a disinfiammare le gengive quindi anche oltre che per sbiancare attraverso l'uso della fogliolina direttamente sul dente serve anche l'infuso per come colluttorio diciamo per togliere infiammazione un altro rimedio è la pasta di curcuma la curcuma come sapete possiede effetti antinfiammatori molto e antiossidanti molto potenti e oltre che un effetto cicatrizzante una valida soluzione è quella di mescolare la polvere di curcuma con acqua o in alternativa preparare una pasta con la radice fresca di curcuma spazzolandola poi sui denti direttamente come fosse un abituale dentifricio chiaramente dovrebbe essere utilizzato prettamente uno spazzolino morbido come diceva prima Carlo in molti temono che la curcuma ingiallisca i denti proprio perché colora molto in realtà non è così ha un effetto sbiancante uno studio del 2016 ha dimostrato proprio come la curcuma applicata localmente sulle gengive aiuti a prevenire e a trattare le gengivite poi c'è la tintura di mirra anche la mirra è potentissima è eccezionale per trattare non solo le gengivite ma la classica piorrea adesso si dice parodontite è un sinonimo ha delle proprietanti infiammatorie molto molto alte si può usare la tintura di mirra diluendone due gocce in una tazza d'acqua e impiegando questa soluzione per fare le risciacquie orali di almeno 30 secondi ripetuti due o tre volte al giorno oppure un altro rimedio eccezionale è l'olio essenziale di mirra che può essere addirittura ma lo potete mettere qualche goccia nell'acqua e fare gli sciacqui ma per quel che riguarda un consiglio che posso darvi io è quello di prendere qualche goccina di olio essenziale è schifosissimo non ha un buon sapore è amaro incredibilmente però o lo diluite con un po' di olio vettore oppure lo mettete puro lo massaggiate con il dito sulle gengive e ha anche questo un effetto incredibile per quanto riguarda sia togliere i batteri dall'interno della bocca ma anche nella ricostruzione delle gengive quindi la mirra è forse come olio essenziale quello maggiormente elettivo per i problemi della bocca e dei batteri anche se c'è anche l'albero del tè c'è anche l'olio essenziale di limone che ha un ottimo effetto antibatterico c'è anche l'olio essenziale di chiodi di garofano ma viene indicato come elettivo l'olio essenziale di mirra o la tintura madre da sciogliere poi nell'acqua e fare gli sciacqui poi abbiamo visto i chiodi di garofano sapete che il chiodo di garofano viene utilizzato anche per lenire il dolore si dice di tenere in bocca un chiodo di garofano quando si ha il mal di denti nel frattempo che si aspetta di andare dal dentista a parte questo effetto lenitivo i chiodi di garofano hanno anche un effetto antimicrobico molto alto anche in questo caso si può utilizzare o si fa bollire dei chiodi di garofano nell'acqua e si fanno gli sciacqui oppure addirittura si mette qualche goccina di olio essenziale magari diluito con un olio vettore direttamente sulla parte sulle gengive sapete che tutti gli oli essenziali hanno questa funzione molto antibatterica molto alta ed è per questo che sono ottimali nel trattare i disturbi della bocca ci sono poi altri rimedi che sono per esempio l'aloe vera l'aloe vera che deve essere però pura al 100% deve essere il puro gel di aloe in questo caso non va diluito ma si introducono in bocca due cucchiai di aloe vera quindi proprio di succo di gel si risciacqua per 30 secondi si espelle la soluzione e si ripete la cosa per due o tre volte al giorno poi un altro rimedio è l'olio di neem che ha un odore schifoso e immagino anche il sapore perché lo uso per i miei gatti quindi per il pelo però l'olio di neem ha un potere antibatterico molto alto anche questo viene utilizzato per preservare la salute dentale ecco in questo caso vi consiglierei proprio per evitare di metterlo in bocca ci sono dei dentifrici fatti con olio di neem dove prevale la componente appunto di quest'olio e hanno un effetto molto valido e ci sono anche dei colluttori a base di neem oppure si può anche fare in casa se avete l'olio puro lo mettete in un po' di acqua e vi fate gli sciacchi l'infuso di camomilla è un altro infuso che è molto utile per lenire l'infiammazione delle gengive sapete che la camomilla ha proprietà antinfiammatorie potrete ripetere quali sono gli oli essenziali allora l'olio essenziale lettivo scusate ho letto una domanda perché magari poi mi dimentico per la bocca è l'olio essenziale di mirra va bene anche in misura minore l'olio essenziale di titri oil il classico olio l'albero del tè va bene anche l'olio essenziale di chiodi di garofano ma il più indicato diciamo così è l'olio essenziale di mirra dicevamo l'infuso di camomilla in questo caso si prepara l'infuso con due o tre cucchiai di fiori secchi e si effettuano direttamente degli sciacqui l'altro come abbiamo detto il bicarbonato un altro rimedio il bicarbonato di sodio mi avevo già detto prima che va utilizzato non in maniera continuativa perché un po' troppo erode un po' lo smalto dei denti quindi va usato come il sale con parsimonia e poi passo la parola a Carlo che vi parlerà delle buone abitudini per contrastare la gengivite eh sì un attimo non ero preparato se no vado avanti io non mi ero distratto un attimo eh niente no sulle buone abitudini che già ho iniziato a dire prima sicuramente perché eh la gengivite è determinata se no sto vedendo i partecipanti più che altro perché tengo il conto allora la gengivite abbiamo visto che è determinata comunque da un'infiammazione per ridurre questa infiammazione bisogna avere eh come dicevo prima un'alimentazione corretta e questo bisogna continuare a dirlo perché in effetti come dicevo prima eh il diabete l'obesità cento anni fa come diabetici in Italia ce n'erano pochissimi pochissimi più vediamo infatti ho visto in una un seminario eh i grafici il grafico della del diabete in Italia partiva inizio a millenovecento un livello bassissimo man mano che si inseriva lo zucchero nella a livello commerciale e aumentava con quel consumo dello zucchero eh aumentavano i diabetici aumentavano anche parallelamente aumentavano anche gli obesi quindi sono tutte malattie problematiche legate a uno sviluppo di questo tipo di quello che quello che stiamo vedendo adesso comunque perché normalmente non ci dovrebbero essere tutti questi malati e quindi dobbiamo fare una grande attenzione eh particolarmente a eliminare e ottenere a molto basso il consumo di zuccheri e lo stesso carboidrati raffinati perché oggi quando si vede in giro pizze, pizzette, focacina e tutta roba raffinata che alla lunga non fa bene ed è una delle basi eh dove si crea diciamo la possibilità di infiammazione eh quindi delle delle gengive sicuramente e quindi si si agevola la proliferazione batterica questo eh questo è importante eh perché questi batteri cosa fanno? Determinano la determinano la placca che si forma tra i denti e le gengive e lì a lungo andare crea un sacco di problemi quindi ridurre migliorare le abitudini riducendo zuccheri il fumo è un altro aspetto eh importante che crea che crea sicuramente dei danni come lo stesso l'utilizzo eccessivo di alcol per esempio questo è un altro un altro diciamo aggravante importante utilizzare un dentifricio che non abbia fluoro per esempio anche lì un aspetto da tenere ben ben presente parlavo dei fumatori infatti perché il fumo riduce l'ossigeno presente nella cavità orale e sembra comunque che i fumatori abbiano rispetto i non fumatori abbiano la possibilità la probabilità di tre volte superiore di perdere di perdere i denti per esempio perché si riduce l'ossigenazione della di quella di quella zona lì specifica poi che dire di altro ecco per esempio una carenza di vitamina c può creare può agevolare e facilitare comunque il discorso della gengivite quindi tenere sempre alti livelli vitamina c che nelle linee ufficiali viene tenuto in maniera molto bassa io mi ricordo fino a non molto tempo fa si parlava centocinquanta duecento duecentocinquanta milligrammi quando invece eh un'assunzione un po' corretta di vitamina c parla di uno due tre quattro grammi e in certe situazioni anche di più sicuramente perché va a creare una protezione sotto un certo punto di vista anche dal punto di vista cardiocircolatorio per esempio infatti gli animali che si producono hanno dei sistemi di produzione propria della vitamina c animali in natura non hanno problemi cardiocircolatori a parte il cane che siamo riusciti a a passargli le nostre malattie questo è un po' il problema eh e infatti infatti per chi sta in zona Bergamo terremo a settembre esattamente diciotto settembre proprio eh tenuto da un igienista Pietro Bisanti proprio sull'alimentazione di cani e gatti e sull'approccio che veterinari hanno sui cani e gatti che è l'approccio della medicina classica né più né meno quindi tanti disastri fanno una parte e tanti disastri fanno un'altra parte eh una cosa eh parallela diciamo questa qui eh come dicevo importante attenzione ai ai dentifrici che siano di origine naturale che non ci sia il fluoro quindi evitare una spazzolatura dei denti aggressiva e tenere un buon equilibrio un buon un buon igiene orale può essere può comunque andare a incidere sulla gengivite anche uno squilibrio ormonale per esempio o anche che ha il bruxismo quindi chi digrigna i denti durante la notte potrebbe eh agevolare comunque anche lì le gengivite eh come anche che ha i piercing sulla lingua e sulle labbra per esempio e comunque anche i disturbi alle gengive di un certo tipo in un certo livello sembra che siano collegati hanno aumentato il rischio per esempio di ictus e di infarti ci può essere il collegamento in qualche maniera di un livello basso troppo scarso di vitamina C che non va a creare un minimo di protezione anche da quel punto di vista che è uno dei fattori che può eh incidere eh e agevolare comunque anche infarti e ictus questo questo è quanto per il momento. Prego Melissa. Eccomi eccomi innanzitutto volevo ringraziare perché mi hanno fatto notare che olio di e non si dice olio di nem ma olio di quindi grazie mille perché non lo sapevo. Ehm per quanto riguarda invece eh le cure naturali contro la recessione gengivale va bene abbiamo già parlato abbastanza ampiamente sui rimedi per le gengive infiammate sono gli stessi fondamentalmente. C'è da aggiungere eh il tè verde per esempio il tè verde è un è un antiossidante naturale contiene infatti la catechina eh che puoi combattere efficacemente contro i batteri che causano la malattia parodontale. Eh bere una tazza di tè verde ogni mattina può aiutare a ridurre se uno riesce le infezioni gengivali e migliorare la salute di generale. Poi sapete che il tè verde comunque ha un sacco di proprietà. Eh la mirra l'abbiamo già detta come olio essenziale. Oltre a questo c'è l'olio essenziale al limone eh come abbiamo detto che è ottimo per disintossicare il corpo e come agente antibatterico e antisettico non usarlo tutti i giorni ma solamente una volta alla settimana come colluttorio cinque gocce in un bicchiere d'acqua e si fanno gli sciacqui eh l'olio essenziale di limone aiuta anche questo come avevo detto prima uccidere la maggior parte dei batteri eh inoltre contribuisce alla ricrescita di nuovi tessuti. L'olio essenziale di eucalipto anche quello può essere è antinfiammatorio antisettico eh può prevenire disturbi gengivali e bisogna massaggiare un po' di olio di eucalipto direttamente diluito magari con qualche goccina di olio vettore direttamente sulle gengive e poi risciacquare eh qualcuno chiedeva nelle domande eh se gli oli essenziali si possono ingerire quali sono? Abbiamo già approfondito il tema degli oli essenziali abbiamo fatto due tre serate proprio dove ne abbiamo parlato ampiamente ci sono alcuni oli essenziali che possono essere allora possono essere ingeriti ma siccome la potenza degli oli essenziali è molto alta eh per uso interno noi consigliamo sempre di metterli all'interno di capsule vegetali quindi che non entrino direttamente in contatto con le mucose perché alcune volte hanno un effetto abrasivo bruciano e eh creano delle problematiche serie poi come sapete l'olio essenziale rappresenta l'anima della pianta quindi a maggior ragione in alcuni casi si possono avere delle delle reazioni allergiche molto forti quindi quando io vi dico magari di usare l'olio essenziale di mira o l'olio essenziale di eucalipto di limone se lo mettete diluito nell'acqua e fatti gli sciacqui è molto diluito quindi non non è diciamo non costituisce un problema però fate sempre una prova se lo usate puro con olio vettore direttamente sulla parte in particolare al modo sulle gengive che è una parte delicata per vedere se avete bruciore o una reazione non eh con una goccina appena perché come dicevamo l'olio essenziale è un rimedio quanto valido quanto potente quindi potrebbe essere anche tossico sempre attenzione quando li si utilizza perché sono miracolosi ma altrettanto sono anche potenti ehm comunque per i dettagli rimandiamo a quelle serate che abbiamo fatto sugli oli essenziali sarebbe lunga adesso fare l'elenco e dire quali si possono usare quali no e altri consigli alimentari per le gengive per curare le gengive eh che si ritirano eliminare lo zucchero le farine raffinate come ha detto Carlo mangiare molta frutta e verdura cruda consumare i cibi di vitamina C arance pompelmo rosa canina frutti di bosco peperoni e kiwi quindi tutti quelli tutti diciamo la frutta e la verdura che è molto eh ricca di vitamina C adesso passerei direttamente alle affe per non per non eh diciamo come al solito allargarsi troppo coi tempi aspetta volevo dire due cose perché c'è una domanda eh dentifricio naturale che si può produrre a casa eh c'è un sistema semplicissimo eh che è quello di mescolare assieme un cucchiaio di sale fino due cucchiai di bicarbonato di sodio si mescolano bene assieme e quindi si ottiene una polvere e sullo spazzolino un leggermente inumidito si mette un po' di questa polvere eh che poi a contatto eh un po' con l'acqua si scioglie e quindi va utilizza diciamo eh la possibilità leggermente abrasiva a un po' del sale che è mischiato col bicarbonato comunque che è è basico comunque da da un ottimo risultato nella nella pulizia diciamo del eh dei denti e questo qui si può realizzare in maniera molto semplice molto facile eh da da un ottimo risultato comunque senza spendendo pochissimo comunque bicarbonato di sodio e e sale. Ce n'è anche un altro di rimedio che è bicarbonato e olio d'oliva eh per farsi un lavaggio però come dicevamo prima va usato non più di una volta la settimana perché si fa una pasta praticamente no? Mischiando l'olio d'oliva con il bicarbonato perché altrimenti rischia di essere troppo abrasivo per lo smalto dei denti ehm poi eh torno hai qualcosa Carlo da dire? No era solamente questo per dare un'indicazione proprio su sul sul dentifricio fatto in casa. Ok eh dicevamo passiamo alle afte che anche quelle sono sono piccole lesioni ecco un'altra cosa scusate che mi dimenticata c'è una domanda molto interessante eh in cui si chiede se ci può essere una correlazione con l'intestino ed è verissimo perché sapete che siamo tutti collegati cioè non siamo divisi a compartimenti stagni quindi spesse volte quando c'è un problema di gengivite costanti di batteri della bocca c'è anche un problema dell'intestino quindi uno dei rimedi eh potrebbe sembrare strano ma non lo è in realtà perché diciamo chi eh eh si si occupa di medicina sintomatica è che quando si hanno problemi all'interno della bocca eh di eh scusate ho il gatto che è impazzito quando ci sono problemi all'interno della bocca ehm spesse volte c'è un problema anche di eh intestino quindi è utile prendere dei probiotici o assumere dei cibi che sono prebiotici quindi che vanno a nutrire la flora batterica intestinale. Siamo tutti collegati eh quindi eh parleremo anche delle afte adesso le afte eh poi diremo che sono queste piccole vesciche che si formano all'interno della bocca spesso sono recidivanti sono delle ulcere molto fastidiose e dolorose e ehm uno delle una delle cause e magari non si collega a quello che diremo adesso ma eh chi magari soffre di intolleranza al glutine o di celiachia e non lo sa beh la celiachia eh è già più facile perché proprio si hanno dei problemi abbastanza pesanti la magari l'intolleranza al glutine che eh di cui non si è a conoscenza magari uno ha frequenti afte in bocca e non capisce la motivazione quindi si attribuisce ad altri motivi quindi ecco questo per dire che siamo sempre tutti collegati il microbiota intestinale è fondamentale per eh la salute e l'equilibrio quindi eh dicevamo le afte sono piccole lesioni della mucosa della bocca che possono comparire nella zona delle labbra delle guance del palato sono un disturbo abbastanza comune le le cause non sono del tutto chiare fondamentalmente sono chiare sono dovute a eh un sistema immunitario un po' debilitato appunto a qualcosa che mangiamo e che ci fa particolarmente male quindi è un qualcosa che il corpo fa fatica a buttare fuori eh intossicazione ehm tendono a scomparire di solito in modo spontaneo nel giro di qualche giorno però ci sono dei rimedi naturali per alleviare i disturbi sintomi più che altro che danno ehm spesse volte la causa della formazione delle afte in bocca eh sono dovute a regimi alimentari sbilanciati quindi eh magari carenti di vitamina B12 di ferro di acido folico eh di vitamina C anche perché si è visto che eh la la vitamina C è molto importante anche per il sanguinamento gengivale perché lo riduce notevolmente si è visto anche che alcuni alimenti e sostanze come per esempio noci ananas spezie cibi piccanti alcol glutine e latticini possono favorire nella comparsa periodi di forte stress come dicevamo all'inizio e di affaticamento fisico e mentale che portano inevitabilmente a una debilitazione del sistema immunitario quindi in quel momento lì a qualcuno viene l'herpes sul labbro a qualcun altro vengono le afte in bocca dipende poi dalle caratteristiche di ciascuno e squilibri intestinali come dicevamo prima eh rimedi naturali per alleviare il dolore eh il fastidio che possono dare queste afte naturalmente è sempre importante l'alimentazione non ci stancheremo mai di dirlo quindi eh a quantità abbondanza di frutta fresca e verdura eliminando magari quelli che abbiamo detto prima perché possono incrementare il problema eh alimenti ricchi di vitamine del gruppo B ferro vitamina C legumi e cereali integrali che possono essere molto d'aiuto ehm ovviamente quando compaiono le afte è meglio evitare cibi particolarmente speziati o piccanti troppo freddi o troppo caldi e a tenersi dal consumare cibi cioè bevande alcoliche e fumo il T3 oil in questo caso quello che dicevamo prima l'olio che va bene anche per la gengivite eh il T3 oil particolarmente è un valido rimedio contro numerosi disturbi tra cui le afte per velocizzare la guarigione si possono eh fare degli sciacchi con tre gocce di olio essenziale di di T3 due tre volte al giorno l'aloe vera abbiamo già visto anche per le gengiviti la maggior parte del del diciamo dei rimedi sono gli stessi quindi il gel di caro e vera ha delle proprietà cicatrizzanti molto molto elevate eh si può utilizzare il gel che fuoriesce dalle foglie perché ha una pianta di aloe che ha almeno cinque anni perché il il gel è pronto dopo almeno da utilizzare a livello curativo dopo almeno cinque anni ehm o acquistare il succo di aloe però mi raccomando che sia puro camomilla la camomilla ha un'azione lenitiva che aiuta a contrastare i dolori delle afte quindi abbiamo detto che fare le degli sciacchi con la camomilla vale sia per la gengivite che per le afte un'aggiunta alla calendula la calendula delle proprietà antinfiammatorie antisettiche cicatrizzanti eh utile per le affezioni della bocca si utilizza la tintura madre diluita in acqua per effettuare degli sciacchi più volte al giorno e ultima cosa ma non ultima in ordine di importanza i fermenti vivi fermenti lattici contribuiscono alla salute dell'intestino il cui la cui alterazione dell'equilibrio può portare alla manifestazione alla comparsa delle afte e anche oserei dire alla alla gengiviti recidivanti soprattutto ehm ovviamente i fermenti lattici lo sappiamo che si si assumono avevano trattato sotto forma di integratori oppure eh direttamente con cibi prebiotici quindi quelli che vanno a nutrire la nostra la nostra flora intestinale e poi c'è un altro quindi come yogurt eh che è ottimo contiene molta inulina eh piuttosto che i porri l'aglio eh vanno a nutrire la nostra la nostra il nostro microbiota intestinale poi c'è la propoli che è un ottimo mi diceva stasera una mia amica che eh lei era soggetta da piccola molto spesso afte e ehm la cura la sempre curate applicando la propoli di proprio in soluzione alcolica eh applicando sulle afte eh la propoli si alleviano i sintomi e eh l'uso interno della propoli è utile a eh sostenere il sistema immunitario attenzione le afte non vanno confuse con le vesciche da febbre che sono piaghe contagiose provocate dal virus dell'herpex simplex e eh che solitamente si eh si si intorno alla bocca si creano intorno alla bocca sapete la differenza l'herpes è quella affezione che si ha sulla bocca le afte invece sono all'interno proprio della bocca sono delle vescichette quindi da non confondere anche se anche per l'herpes simplex va benissimo il T3 soprattutto in fase iniziale quando cominciate a sentire le il il prurito e le vescichette che stanno spuntando se utilizzate subito il T3 eh si manifesta in misura ridotta la l'herpes basta io direi che per stasera abbiamo finito abbiamo sforato come al solito non ce la facciamo stare nei tempi metteremo poi eh poi ci potrebbe avere una piccola pagina riassuntiva dei rimedi certo mettiamo il riassunto ho già risposto eh nella chat che metteremo nei prossimi giorni eh metteremo un riepilogo comunque come vedremo di fare ecco una cosa le altre volte prego un'ultima cosa non so se mi si segna perché è uscito che la connessione non è stabile comunque velocemente c'è chi chiede ciclo mestruale anche anche il ciclo mestruale ehm solitamente per la donna contribuisce ad abbassare un po' le difese immunitarie quindi ehm succede abbastanza frequentemente che la donna quando è vicina al ciclo quindi a questa stanchezza eh spunta l'herpes o si formano le afte in bocca proprio perché siamo più vulnerabili in quel periodo soprattutto nei giorni precedenti eh tendiamo a essere più vulnerabili a livello di sistema immunitario quindi non so se avete fatto caso le donne soprattutto si prende il raffreddore con più facilità quando siamo vicino il giorno prima un paio di giorni prima del ciclo mestruale viene l'herpes con più facilità eh insomma c'è una debilitazione generale del sistema immunitario io ho finito Carlo eh sì allora sì no la questione eh noi noi trattiamo i problemi specifici però nell'approccio naturopatico eh la cosa fondamentale è che ci sono delle cause più profonde che poi si esprimono con patologie o problematiche diverse quindi quando si parlava prima eh dell'intestino eh sì perché tutto è collegato poi l'intestino è un punto nevralgico del eh del corpo umano dove vengono gestite maggior parte di fesi immunitarie maggior parte dell'assorbimento del ferro e tutta un'altra serie di di alimenti quindi trattiamo le questioni specifiche però poi bisogna andare a ricondurre al al discorso più generale della gestione della del nostro benessere psicofisico quindi alimentazione stress emozioni e tutta una serie di cose l'approccio naturopatica è quello a differenza dell'approccio medico classico che va a vedere la patologia sopprime il sintomo e pensa di aver elevato il problema beh insomma siamo arrivati comunque ad avere generazioni di persone di settanta settanta e cinque ottant'anni che sono stracariche di farmaci pieni di pieni di malattie con una qualità di vita che molte volte insomma bisogna eh vedere quanto sia effetto interessante vivere in certe condizioni quindi questo non voglio dire che la medicina ufficiale non serve perché la medicina ufficiale ha il suo scopo ha il suo spazio di azione che è quello come salva vita nelle malattie acute dove ormai con l'approccio naturale non ci puoi fare più di tanto e come emergenza lì sicuramente salva le vite su questo lo continuiamo a dire però nell'approccio alla persona i risultati sono veramente disastrosi completamente disastrosi e l'approccio solamente in termini naturali con il rispetto comunque di quello che sono le regole della natura e i ritmi della natura fondamentalmente e quindi la cosa importante è adeguarsi a questo se vogliamo rimetterci in salute o mantenere uno standard di salute elevato importante è questo tipo di approccio eh perché la malattia non è come dice anche l'OMS eh il benessere non è solamente mancanza di malattia ma è il raggiungimento di un equilibrio in un'armonia interiore che vede con quegli aspetti sociali emozionali gli aspetti fisici di tutto il resto quindi la naturopatia lavora fondamentalmente con quest'ottica quindi trattiamo sì le problematiche locali con dei prodotti naturali però andiamo a vedere sicuramente sempre l'aspetto generale perché da lì parte tutto poi fondamentalmente questo è una precisazione da fare sempre quindi tutti i rimedi che abbiamo fatto stasera li metteremo sul canale telegram però c'è anche il discorso di un approccio più complessivo alla persona che va preso sempre in considerazione perché una stessa causa può esprimersi può esprimersi con patologi su patologie diverse anche o comunque eh se non essere la causa di quella patologia l'agevola e la e e la rafforza questa è una cosa che volevo eh volevo chiarire posso certo ah questo qui no questo qui vabbè questa è la mia postazione voi vedete dall'altra parte sì no ti si sente vedete dall'altra parte io sono seduto in quella sedia lì in pratica oggi ho messo due piante quella che quella pendente e l'altra a sinistra sulla scrivania perché assorbono le onde elettromagnetiche perché ormai e su questo tratteremo una serata eh sul problema dell'elettromagnetismo che è sempre più elevato con questa missione del cinque G e che comunque come proteggersi da questo elettromagnetismo che in certe zone è veramente altissimo che anche lì non genera le malattie però eh è uno dei cofattori sicuramente a parte il fatto che un elettromagnetismo esageratamente alto abbassa le difesi immunitarie e già ci riduce quello che quello che quello che la natura ci ha dato come strumento difensivo questo è quanto allora c'è una domanda Carlo però eh quella del ci dice qualcosa sull'incontro su telegram di pulizia dell'intestino cosa come su telegram non lo so ci dice qualcosa su incontro su telegram di pulizia dell'intestino non so se si riferisce ai tre giorni di depurazione che quelli sono già iniziati ed è online è probabile è probabile perché stiamo facendo domani l'ultimo giorno lo stiamo facendo online abbiamo mandato l'indicazione alle persone che aderivano e domani è ripeto il terzo giorno ecco sui tre giorni ecco sì per ora non questa è l'ultima che facciamo poi probabilmente ne faremo una in presenza in base alle richieste io una cosa volevo dire perché altrimenti giustamente poi è tardi ve ne andate tutti e andiamo a chiudere adesso abbiamo ideato questo progetto primavera che è molto carino a mio parere nel senso che per alleggerire un po' la situazione di tensione di eh abbiamo bisogno un po' di rinascere come la natura adesso un po' di darci quella ventata di 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 buon umore e di positività quindi abbiamo pensato a un qualcosa che fosse eh sì sempre legato al benessere allo star bene però anche alla insomma a quelle a spiegarvi a a darvi qualcosa che vi potesse anche stimolare la giocosità il dei rimedi anche da utilizzare in casa eh molto semplici e curiosi ma che hanno un impatto molto positivo ehm per esempio a giocare tra virgolette giocare che poi non è un giocare come ben sapete coi tarocchi per esempio giovedì prossimo avremo una serata il sette aprile cioè non giovedì questo scusate il prossimo quindi il sette aprile eh con Maddalena i suoi tarocchi userà anche gli oracoli quindi magari chi è interessato e vuole passare una serata diversa può magari chiedere il messaggio della carta eh dedicata eh faremo poi delle serate relative appunto a non so cosa fare per colorare un po' la casa per cambiare gli aspetto per buttare delle cose che non si utilizzano più per fertilizzare le rose con quello che abbiamo in casa che può essere per esempio la buccia di banana piuttosto che altro come meglio consumare l'aglio eh come renderlo più digeribile se è meglio crudo cotto cioè insomma stiamo mettendo insieme tutta una serie di consigli per il benessere che possono essere anche curiosi stimolanti poi magari faremo una serata anche oltre che sui fiori di bacca anche su scegliendo il vostro fiori di bacca di quel momento attraverso le carte dei fiori di bacca ecco insomma eh per farla breve un delle serate dedicate proprio che probabilmente saranno il martedì e il giovedì sempre alle venti e trenta relative al benessere a trecentosessanta gradi quindi anche alle leggerezza e la giocosità come dovrebbe essere la primavera quindi quindi martedì prossimo parliamo dei fiori di bacca ok? Sì parliamo dei fiori di bacca e quindi entriamo nel campo nel campo vibrazionale diciamo perché i fiori di bacca vanno vanno a trasmettere eh una vibrazione che sono le vibrazioni di determinati fiori ogni vibrazione è legato a uno stato d'animo comunque è è un' emozione eh ed è molto interessante l'utilizzo noi utilizziamo da anni eh quando facciamo le consulenze eh e da quasi sempre delle dei risultati molto positivi e molto interessante e poi un'altra cosa che anticipiamo e questo lo facciamo in collaborazione perché c'è stato chiesto poi dalla dottoressa Erminia Maria Ferrari eh per il canale il coraggio dell'anima il sei eh martedì aspetta quante ce l'ho segnato qui no mercoledì eh sei aprile Franco Fracassi che mi sembra anche un regista un giornalista così si parlerà sulla guerra sulla guerra che è in corso in Ucraina eh sembra che sia un personaggio a livello nazionale importante e sarà comunque alle diciassette e trenta di mercoledì sei aprile quindi attraverso il coraggio e l'anima comunque che è un canale molto grosso comunque gestito tra gli altri dalla dottoressa la nostra amica dottoressa Erminia Ferrari questo è l'anticipo delle cose poi ricordo non mettiamo a locandino che la nostra associazione è completamente autofinanziata eh facciamo tutta una serie di iniziative gratuitamente però beh sapete che qualunque cosa si fa oggi qualcosa di costo c'è e quindi chiediamo eh contributo libero per sostenere la nostra attività questo è quanto penso che possiamo andare alla chiusura sono le direi di sì perché se ne stanno se ne stanno andando tutti grazie della serata e e buonanotte ci vediamo quindi eh martedì prossimo eh per per la serata sui fiori di Bach sarà una serata introduttiva perché parlare dei tutti i trentotto rimedi in un in quaranta minuti è un po' difficile eh e poi giovedì vi aspettiamo per i con i tarocchi di Maddalena grazie e buonanotte a tutti ciao ciao buonanotte ciao a tutti 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 buonanotte ciao a tutti